Milano spinge ancora di più sui pedali nella convinzione che il futuro della mobilità sia in buona parte su due ruote. 5.000 nuove bici in sharing, tutte a pedalata assistita, stanno infatti per prendere servizio sulle strade della città. La cinese RideMovie potrà infatti rimpolpare la flotta già presente con 4.000 nuove bici, portando il suo totale a quota 12.000, cifra che rafforza il suo primato a Milano. L'altro semaforo verde invece è arrivato per un nuovo player che si intromette nella competizione della mobilità sostenibile e condivisa. Si tratta di Vento Mobility, compagnia italiana acquisita dal colosso tedesco Tier lo scorso dicembre. Su questo fronte saranno mille le due ruote che approderanno per le vie di Milano. Tutte a pedalata assistita ai free floating, ossia senza bisogno di stalli dove parcheggiarle una volta terminato il noleggio, le nuove bici faranno volare il parco cittadino vicino a quota 22.000 mezzi. Ad oggi infatti sono 16.930 le due ruote in sharing presenti a Milano, a cui vanno sommate le 5.000 nuove fiammanti. Un servizio che i cittadini hanno imparato ad apprezzare e continuano a sfruttare. Tra il 2020 e il 2021, anni in cui il servizio ha subito una flessione a causa della pandemia, si sono registrati comunque 12.400 noleggi ogni giorno per una distanza coperta media di 1,5 chilometri e 18 minuti di durata.